Da oltre tre anni i residenti delle palazzine di edilizia popolare Ater di Campo Ammare a Roseto degli Abruzzi, situate in via Galileo Galilei 7 e 9, vivono una condizione di crescente disagio. Le problematiche denunciate dai residenti sono molteplici e vanno dal distacco di parti del cappotto esterno che minacciano la sicurezza dei passanti, alle infiltrazioni d'acqua che danneggiano i contatori elettrici e favoriscono la formazione di muffa. La muffa arretta l'immobile, ci sono quattro ditte, qua non si vede nessuno, i telefoni quando mandano l'acqua su e non risponde nessuno. Noi siamo due persone qua, non buttiamo sciopo e niente, l'uomo guarda l'acqua, l'immobile arretta l'immobile, ci sono quattro ditte di muffa, perché non sembra aperto perché se no la notte non si può dormire per la muffa. Una delle criticità più pressanti è l'ascensore fuori servizio da mesi, che costringe persone con disabilità o difficoltà motori a dover affrontare le scale. Inoltre la presenza di lastre scheggiate aumenta il rischio di incidenti. Attenti perché ecco mi sono rotta l'ufebre, ecco le scale me le sono rotte. E ora non posso camminare, adesso non ti fai vedere per niente, ma andrò l'acqua e ti rifiuto una sponda. Ma che è? Altra problematica è l'infiltrazione d'acqua, principalmente dalla strada, in particolare con le piogge, che sta provocando danni ai contatori posti nel seminterrato di una delle due palazzine. Quando piove ha problemi? Sì, tantissimo, perché in questa luce ci sono stati messi su come tutto, ci sono stati messi su come l'acqua, ma ora è 40 anni che ci sono già venuti mai, mai, mai eppure mai.